Una partita attesissima, formazioni delle squadre allora, mentre le camere guidate da Gino Godi indugiano su Bergonzi, Mauro Bergonzi, assicuratore genovese, arbitro di questa partita. L'Assemblea del Tese si schiera con Fisi in porta, poi Forza e De Amicis, Pellegrini, Volantuono, Filippi, Deodorani di Serafino, Cacciatori, Soncini e Bonura, allenatore, l'abbiamo sentito un attimo fa, Beruato, porta con sé il secondo portiere di Chio, poi Fonda Matteo, Brou, Sorrentino, Spann, De Silvestro e Sergi, mentre i giocatori del Teramo, eccoli qui, li vediamo, posano per una inedita foto, Riccord, Viso, tutti gli ucini arrivati, anche lui in casa della mano, non raggiaggancia con la tuono, Mildai, è buono il contropiede del Teramo con il tiro, gol, trete del Teramo, è in vantaggio. A sorpresa Teramo in vantaggio, dopo 12 minuti, c'è stata un'indecisione della difesa, attenzione al pari della Samb, a sorpresa, 1 a 1 al 24esimo, da calcio d'angolo il pareggio della San Benedettese, la gioia. E questo penso che sia un gol importante per la San Benedettese, raggiungeremo. Un nome in più, lo si è visto, perché da quando la San Benedettese è rimasta in 10, ha praticamente abbandonato il centrocampo agli avversari, gioca con i centrocampisti a ridosso della difesa. Intanto vediamo il presidente del Teramo, Romano Malavolta. Mi hai anticipato, posso? Vai Silvano, sì. Perfetto, Romano Malavolta, presidente del Teramo, qui accanto a noi. Una partita bella e innanzitutto molto vibrante. Dicevamo prima con il vostro allenatore, peccato, un'altra ingenuità vi ha punito come domenica scorsa quando avevate la partita in mano. Beh, intanto credo che la caratura delle due squadre sia diversa. Molto diversa tra la San Benedettese e il Forenzuola. È ovvio che domenica abbiamo fatto una stupidaggine e purtroppo prendiamo gol sempre su calci piazzati, eravamo andati in vantaggio e a due minuti dopo abbiamo ripreso il gol. Credo che sia una bellissima partita, credo che il primo spettacolo sia quello del pubblico, sia da una parte che dall'altra, per quello della San Benedettese non lo devo scoprire io. Tifoserie, grande striscione, mi ha alzato i tifosi del Teramo, Devis, diavolo, la curva del diavolo. Dall'altra parte palloncini rosso-blu. Nella San Benedettese c'è il viso, c'è il facci, il viso mette in movimento De Angelis, De Angelis vede Mirtai che incrocia, libera Peregrini ancora verso Mirtai. Il coppo di Mirtai, gol, le proteste di Visi che è fuori gioco, rete a sorpresa del Teramo, un serio di carambola. Eh sì, c'è stata una carambola, Mirtai si è trovato sulla testa un pallone con Visi verso Mirtai, filtra il pallone per Margheriti, Margheriti un controllo difficoltoso. Arriva anche De Angelis, preferisce giocare con Mirtai, Margheriti, Mirtai in posizione di alla destra, entra in area, carica il sinistro ed è un gran gol di Mirtai che fa così la differenza. Sì, questo è il giocatore che fa la differenza, il gran gol ha puntato, è andato nell'uno contro uno, si è liberato e col sinistro, veramente. E' un giocatore straordinario in questa categoria, veramente il migliore che io ho visto, secondo me meriterebbe qualche cosa di più. E questo è un numero da grandissimo giocatore, e anche come personalità è entrato davvero con i bagli in piedi ad applaudire Mirtai. Eccolo che arriva Mirtai, vai Silvano Barone. Mirtai è più importante il primo posto del Teramo o il suo diciannovesimo gol che è stata una kick? No, no, è più importante il primato del Teramo. Abbiamo perso due punti domenica, quindi li abbiamo riconquistati adesso meritorialmente. Questa Mirtai che fa la differenza, tutto è più facile. No, no, questa è una gran squadra, quindi io sono in mezzo a una gran squadra, mi aiutano tantissimo, io faccio dei gol, però è merito a tenore. Eh, grazie. Non c'è la forza però. Una gara per i play-off è sempre molto acce. Sì, sì, apertissima per tantissime squadre, noi cerchiamo di continuare al meglio guardando la nostra strada, il nostro cammino, oggi siamo in perfetta media. Grazie, Armando, ti restituisco la linea, che non vedo accanto a me i giocatori della San Benedettese. C'è solo Sergi lì davanti, forse è l'ultimo che sta. Sì, spero di riuscire. Sì, spero di riuscire. Sì, spero di riuscire.